Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale del Caotico, benvenuti in questo nuovissimo video Direi proprio home, home, home Sardtour Sì, sì, sto in Sardegna, lo ammetto E ragazzi, iniziamo questo home tour in maniera diversa perché mi sono scocciato di iniziare dall'ingresso Facciamo una cosa diversa Iniziamo dalla stanza più vissuta Dicevo, iniziamo da questa stanza perché poi alla fine è quella più utilizzata Per cui lo trovo interessante, insomma, cambiamo un pochino contest Allora ragazzi, entriamo dalla porta d'ingresso della camera E ci troviamo questa bella cameruna Ci sono tante cose da notare Innanzitutto mi piace tantissimo il fatto che sia un quadrato perfetto Questa cosa aiuta veramente tanto nella disposizione poi di tutto Voi direte perché? Perché ragazzi, quando andiamo a mettere un letto matrimoniale E abbiamo effettivamente lo stesso identico spazio sia a destra che a sinistra Mettere i comodini e tutto il resto appresso diventa molto più facile Quindi abbiamo un letto matrimoniale by, credo, Ikea, non ne sono sicuro Fatto in questo modo, insomma Con comodini a destra e comodini a sinistra, Ikea Ne sono sicuro che sono Ikea perché sono esattamente quelli lì che voglio prendere Nella casa che ho appena acquistato Vedete? Sono proprio quelli lì che voglio io Quindi veramente io li trovo molto molto belli Questa qui invece è la luce Mi piace molto, fatta in questo modo L'avevo pensata pure io per la nostra casa nel borgo E quindi non lo so Fatemi sapere se vi piace l'idea di mettere la lampada così in aria Io volevo metterla così proprio perché lo spazio non c'è E avevo pensato addirittura proprio a questo comodino A una mensola fatta in questo modo Comunque non è questo il video in cui voglio parlarne Però per farvi capire Poi c'è una finestra che non metto a fuoco l'esterno Per una questione così mia di privacy Però c'è una bella finestra grande e luminosa Delle belle tende che oscurano subito Mi piace anche lo specchio qui sul letto E ovviamente ragazzi mi piace il fatto Non so se ve ne siete accorti ma penso di sì Che il letto è quasi a terra A me piacciono moltissimo i letti quelli lì proprio a terra Dove non... cioè dove tu praticamente ti stagli per terra Mi piace veramente tanto Non mi piace il letto alto Ecco una cosa che ho scoperto col passare degli anni Non mi piace il letto alto Poi ragazzi ci sta questo pavimento Che guardate un po' com'è particolare Non riesco a capire effettivamente se questo pavimento sia un pvc adesivo Oppure un laminato oppure un pvc Quello lì a incastro fluttante Ecco non mi veniva il termine E poi qui c'è la predisposizione per la tv Ma non ce l'hanno messa Va bene E poi c'è questo armadio che è un pochino l'armadio della nonna Io lo vernicerei di bianco Non vorrei essere troppo generalista Però proprio in questo caso c'è il letto bianco I comodini bianchi, le luci bianche Tutto il resto bianco Mi piacerebbe bianco Oppure ci starebbe bene pure un bel rosa antico Chiaro chiaro Ci starebbe veramente bene Quindi questa qui è la camera Mi sono reso conto che mi sono allungato un pochino tanto con i tempi Con le parole Però mi è venuto spontaneo Quindi alla fine non vedo perché mi devo frenare Ogni volta che faccio i home tour Sembra che devo andare di fretta A chi non gli piace il video Ovviamente questa è la porta Scherzo eh raga Però poi alla fine veramente no Ogni volta sembra che sto a fare la maratona Allora usciti dalla camera Ci troviamo praticamente nel corridoio principale Se ci riesco accenno pure la luce E luce fu Ecco qui Questo è il portone principale Mi trovo al quinto piano È bella tosta Però insomma ha un po' di palestra inclusa Gratuita Non fa mai male C'è un bellissimo quadro Vedete? Veramente molto molto bello Questa casa veramente merita tantissimo Questa ragazzi è un'altra camera Ed è anche questa molto bella A differenza della precedente Questa qui ha un balcone Molto grande È un terrazzo spettacolare Si vede praticamente tutta la parte storica di Cagliari È proprio nel centro Quindi bellissimo E in questo caso Il letto è sul celestino In generale comunque tutta la casa È un pochettino su questi colori Rosa, celestino Mi piace Mi piace veramente tanto Poi ragazzi qui c'è il terrazzo Vi faccio vedere anche Tutta la parte storica di Cagliari Veramente uno spettacolo Non esco troppo fuori Perché altrimenti mi ammalo Quindi va bene così Poi ragazzi qui praticamente c'è una sorta di Angolo vuoto Fatto in questo modo Ha un salvaspazio Chiamiamolo così Che fa sempre bene Poi andando verso quest'altra parte Vi faccio vedere Prima la sala giorno E poi il bagno La sala giorno è fatta in questo modo Praticamente entriamo E c'è un mega soggiorno Che ci accoglia Insomma Ci sono sempre quei quadri molto belli Adesso non vado nei dettagli Perché altrimenti Questo video arriva a 25 minuti Però insomma C'è un bel divano Un bel tavolino Da te Eccetera Eccetera Non è assolutamente invadente Come spazio soggiorno Anzi A me Non dispiace per niente Ho dimenticato di dire Che in ogni camera Ci sono condizionatori Riscaldamento Raffreddamento Tutto Veramente tutto Quindi 10.000 e lode E poi Da quest'altro lato qui Abbiamo l'angolo della televisione Vedete molta luce Perché c'è un altro balcone È super luminosa Questa casa Qui c'è la televisione E poi vabbè C'è un piccolo angolo studio Insomma Per lavorare Eccetera Eccetera Super super comodo Veramente Qui c'è tutta la cucina Quindi abbiamo il tavolo Per mangiare Eccetera Eccetera E poi qui c'è proprio la cucina Vera e propria Che è un pochino Una cucina Che troviamo spesso Dove andiamo Troviamo sempre Questa tipologia di cucina Però poi magari Ognuna è un po' particolare Chi ci mette una cosa Chi ce ne mette un'altra A me piace molto Lo stile Fatto così Non c'è la lavastoviglie Assolutamente No non c'è Però devo dire Che non è una cosa Che sento Tanto Tipo la lavatrice Ecco se manca la lavatrice È una cosa che sento E questa è la visuale E questa è la visuale Della cucina A me piace molto E mi piace anche Il contrasto Se ci fate caso Qui alla mia sinistra Con quel nero Veramente bello Adesso che lo vedo così In fotocamera Questa è un'altra idea Per la nostra casa Al borgo Ragazzi Guardate che bello Qui c'è sospeso Un mobile È proprio un mobile Sospeso Che mi piace Comunque si abbina pure Con il tavolo Vedete i colori Alla fine Mi piace tanto E poi di qui C'è ancora un altro Balcone Che dà Praticamente Su un altro lato Della città Che non guardiamo Nemmeno Perché non mi piace Il lato che mi piace Tanto È quest'altro Che è veramente Spettacolare Ragazzi Cioè Voi ditemi Se non è Fantastico Adesso metto a fuoco All'esterno Cioè Guardate che meraviglia Praticamente Si vede Tutta La cagliare antica Dov'era il castello È veramente Bello Ovviamente Non è da meno Il tavolo Esterno Con Le sedie Delle piante Bellissime Insomma Uno spazio Per fumare Una sigaretta Per stare Un pochino così Insomma Un attimo Di relax Poi Andando Qui di nuovo Nel corridoio Vi faccio vedere L'ultimo ambiente Di questa casa Bellissima Si entra In una porta A scrigno Anche questa Super comoda Che poi Tra le altre cose Ad Arezzo Mi sembra Ne abbiamo trovata Una Che era scrigno Però Aveva lo scrigno Esterno Ed è una buona Soluzione Per chi non ha Lo spazio Per mettere La porta Nel muro Infatti Io la stavo Valutando molto Comunque Questo è il bagno Faccio prima Se metto la visuale Esterna Altrimenti Con me dentro Non mi vedete Anzi Non vedete il bagno Eccoci qua ragazzi Allora Come vi dicevo Entriamo E troviamo Innanzitutto Un muro bellissimo Veramente Mattoncini Fatti molto Molto Bene Apprezzati Poi c'è Il classico Secchietto Quello lì Diciamo Per l'immondizia Da toilette Poi c'è Un carrello Sotto al lavandino Sospeso Vedete Veramente molto Molto Bello Dove uno Ci può mettere Tutte le cose Insomma Le asciugamani Il fondo La carta igienica Il mio power bank Della sigaretta elettronica Un po' di tutto Poi abbiamo Il lavandino Molto bella Questa forma E infine Uno specchio Nello specchio Se ci fate caso C'è un pazzo Quello sono io Poi una mensola Lì Per mettere Tutte le varie cose Io ci ho messo La mia schiuma Da barba I cosmetici Insomma Poi Questo specchio Non è niente male Ingrandisce moltissimo Il bagno Pensate Improvato A immaginarlo Verticale L'avrebbe ridotto Invece messo Così in orizzontale Lo allarga tantissimo Vedete Questi sono dei giochi Che piano 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 Io ho imparato Vedendo tantissime case Poi Andando un pochino Più avanti Lì C'è una stufetta Improvvisata Che sembra una cavolata Ma io l'ho utilizzata Poco fa Infatti se vedete A terra è bagnato Perché ho appena fatto la doccia E vi posso assicurare Che riscalda benissimo L'acqua Non gli va sopra Perché è stata messa Intelligentemente in alto Così non c'è pericolo Che qualcuno Prenda fuoco Insomma Ed è veramente carina Ovviamente ragazzi La finestra Nel bagno Che ve lo dico a fare Rende tutto un pochino Più luminoso Più arioso Eccetera eccetera Purtroppo in alcuni punti Non c'è la finestra In alcune case Però insomma Cerchiamo sempre di Di accontentarci Non mi ricordo Se nella nostra casa Al borgo Ci sia la finestra Mi pare di sì però Poi a proposito Fatemi sapere nei commenti Se volete Vedere la casa Che abbiamo comprato Questa è la doccia È veramente molto comoda Molto carina La consiglio veramente a tutti La doccia così a pavimento Però se vi posso dare Un ulteriore consiglio Non mi piace Questo centimetro Che si trova per terra Tra il pavimento E cioè Tra il marmo È il piatto doccia Ma più che non mi piace Il centimetro Non mi piace il fatto Che questo materiale Sia molto scivoloso E quindi Questo gradino Potrebbe essere Un pochettino pericoloso Oppure quando entrate dentro Prima ci ho sbattuto Leggermente il piede Il mignolo ovviamente Mi sono fatto Insomma un po' male Però niente di che Però ecco Su piccolezze Che a me piace guardare Poi c'è una bellissima nicchia Nella doccia Con tutti Insomma i miei cosi I miei shampoo Deodoranti Detergenti E quant'altro Poi abbiamo sopra Ovviamente quello lì Grande Ragazzi Non mi viene mai il nome Di questo Benedetto Docciaio E poi c'è Un lampadario Veramente molto 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 Moderno Mi piace tanto E come vi dicevo Il turchese Il celestino Scusate E ripreso poi in tutta la casa Vedete anche nel bagno Ci sono questi quadri Per niente invadenti Molto Molto Leggeri Che donano un tocco di design Molto interessante A tutto il bagno Ed è proprio nel bagno Che io Chiudo questo video Vi mando un bacione Vi chiedo di iscrivervi al canale Se vi fa piacere E di seguirmi pure su Instagram Perché Stiamo crescendo Piano piano Insomma ci sono tanti contenuti extra Tante storie Che Qui su YouTube Per forza di cose Non posso postare Non posso Postare Quindi se vi fa piacere Vi consiglio anche Di seguirmi su Instagram E niente Anche per vedere Insomma tutta l'esperienza Della nave Trovate le storie In evidenza Sul mio profilo Quindi non vi perdete Assolutamente Niente Perché rimane tutto Memorizzato La maggior parte Delle cose Quelle più importanti Diciamo così Stamattina ho la parlarella Ragazzi Ne approfitto solo Alla fine del video Per chi mi segue sempre Chi ha finito di vedere Room tour Magari se ne va Per chi mi segue sempre Invece volevo darvi un piccolo aggiornamento All'apparecchio Voglio farci un video Perché me lo avete chiesto in tantissimi Però Su Instagram Però Ancora non ho trovato il tempo Ovviamente Quindi volevo farvi vedere Se accendo la luce Ecco La differenza Dei denti Magari posto anche qui sulla destra Un'altra foto Se non l'ho fatto già in qualche altro video Comunque lo rifaccio Guardate che differenza Con l'apparecchio A 30 anni A 29 Cioè State capendo E soprattutto Si è fatto qui Lo spazietto Della pausini Vedete Spazio che si sarebbe dovuto creare Con il diastasatore Ma non si creò Adesso di punto in bianco Si è creato sto spazio Non lo so Perché io adesso sto mettendo anche l'elastico Che a proposito Mi meriterei proprio una bella sgridata Perché non l'ho messo stamattina L'ho portato solo stanotte Però vabbè ormai tra un po' Devo pranzare Era l'unica mattinata che avevo libera Perché oggi è domenica Se non vado errato Era l'unica mattinata che avevo libero Quindi ho detto Vabbè dai Stamattina me la prendo di ferie Però Avrei dovuto metterlo Comunque sono molto molto contento Del risultato dell'apparecchio Non me lo sarei mai aspettato Dopo che dentisti 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 A Roma A Milano A Latina Ovunque mi hanno detto No devi fare l'intervento maxilofacciale Non puoi correggere la terza classe Ragazzi Guardate che miracolo Cioè guardate che miracolo È incredibile E siamo a Meno di metà percorso Cioè quindi veramente Ah no no aspettate Un po' più di metà percorso Monza allarghiamo Comunque ragazzi Questo è quanto Io vi ringrazio per essere stati con me Spero che questo home tour Vi sia piaciuto Lasciate un like Se è così Vi mando un bacione E un abbraccione Ciao PS ragazzi Avevo dimenticato una cosa importante Sempre per quanto riguarda Instagram Se mi seguite Sicuramente nelle storie Metterò le foto Del terrazzo Insomma della visuale Dal terrazzo Vi sto un pochino meglio Adesso non esco Perché ho appena fatto la doccia E insomma Vorrei evitare un tocco Ciao Ciao